Roberto Giacobazzi con Christian Garbi avete ottenuto una vittoria veramente dal sapore epico alle Magdalene. Una giornata difficile, raccontaci un po' le sensazioni per un ciclista di correre in condizioni estreme. È stata veramente una grande impresa perché siamo partiti fin dall'inizio in fuga e abbiamo visto che c'era margine per poter far bene, però non avremmo mai pensato di riuscire a conquistare la tappa. Di far bene sì, però di conquistare proprio la tappa no. Quindi è stata una grande sorpresa anche perché è da molto tempo che proviamo a fare grandi risultati, ma siamo sempre davanti, competitivi, ma non siamo ancora riusciti a vincere. Ieri finalmente è arrivata questa bellissima vittoria di Mark che si merita tantissimo.